Buonasera a tutti i tifosi appassionati dell'FBC Gravina, siamo quest'oggi in compagnia con il nuovo attaccante finalmente dell'FBC Gravina, Diego Alarabano. Sono contento di essere qui, cercherò di dare il massimo, fare un bello dell'anno. Diego il tuo curriculum è molto ricco, di grandi piazze, possiamo ricordare a tutti, Trani, Matera, Caviese, quindi Gravina perché? Per un attaccante del suo carico? Ma è un progetto importante, perciò sono venuto qui a dare il mio contributo per cercare di vincere questa giornata. Gravina quindi accoglie finalmente un grande attaccante come Diego Alarabano, quindi l'obiettivo di questa annata per lei e per la società quale deve essere? Poi vedremo la fine, però cercheremo di fare il campionato di vincere il campionato. Ringraziamo Diego Alarabano.